Ben ritrovati in questo terzo episodio della rubrica in Pils E quest'oggi, come dal risultato del sondaggio sulla mia pagina Facebook che vi lascio qui sotto in descrizione insieme al profilo Instagram oggi trattiamo di Periferi 2, This Time is Personal Per l'appunto secondo lavoro in studio del gruppo seguito da quel capolavoro che era il debutto, che era un disco a tratti avanguardistico Come suggerisce il titolo, è un lavoro molto più personale rispetto al precedente includendo elementi più vicini al progressive che al djent E sempre parlando di progressive troviamo chitarristi come Wes Huck, Guthrie Govan e John Petrucci che firmano tre assoli e di cui il mio preferito resta quello di Erised, ovvero quello di Petrucci Sicuramente il songwriting è molto più maturo e l'approccio è molto più melodico trattenendo in parte sia la componente più aggressiva che anche quella più meshughiana volendo Proprio per questo l'album è stato soggetto di varie critiche Basti pensare a Scarlett che presenta dei fraseggi accostabili al pop o a Erised che in certi tratti è veramente tanto mielosa E il mio pezzo preferito non può che essere Ragnarok Ci vediamo presto con un video speciale e con la Top 15 che uscirà un po' in ritardo Strano eh? Non succede mai!